Bentrovati ragazzi, ecco iniziamo questo incontro. Io in realtà già ho sentito un po' di persone a telefono, alcuno ha mandato anche lo schema e già mi sono un po' più o meno reso conto della situazione, nel senso che ecco il concorso in magistratura è bello perché vario. Ora c'è una traccia che peraltro non c'è più, vediamo dove mi è stata dettata, quindi spero che sia questa, io non l'ho vista, non c'è, e mi è stato riferito, tratti il candidato del divieto di patto commissorio e delle forme assunte nella prassi negoziale volte all'elusione dello stesso, scusa ma regà mi porto il codice civile che sta sulla scrivania, scusatemi, secondo lo vado a prendere da su, no 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 no, credo che sia chiaro che era una traccia sul patto commissorio, no? e quindi semplicemente andava fatta una prima parte sul divieto del patto commissorio, quindi sull'interpretazione giurisprudenziale del 2744 e poi c'era una seconda parte, le forme assunte nella prassi negoziale volte all'elusione dello stesso. La traccia ovviamente vi chiede ma quali sono le forme, abbiamo detto, collegamento negoziale tra negozi tipici o atipici per perseguire il risultato vietato. Ripartiamo, ora mi sentite? Bene? Ecco, ben trovati, allora ragazzi ripartiamo, anzi riparto pure di qua, quindi ben trovati, è uscito il patto commissorio come abbiamo detto, no? Tanto ad uno che piove quante volte abbiamo nominato ad agosto il patto commissorio? Credo infinite volte, poi devo dire la verità, è sfuggita perché probabilmente diciamo avevate già tante cose da fare, però io proprio perché nullità, patto commissorio, frode, me la sentivo, ma me la sentivo parecchio, avete visto che, cioè nel senso era tra gli argomenti da fare, abbiamo fatto, vi ho registrato proprio a settembre anche una serie di lezioni sulla nullità e una lezione proprio sulla frode alla legge e un'altra volta il patto commissorio, richiamandovi poi qualche figura classica, tra cui devo dire la verità quest'anno in questo concorso spiccava sovra tutte sicuramente il leasing back, perché c'era, chi sappiamo, in commissione, ne abbiamo parlato tanto, eccetera. Ora, esiste un tema perfetto? Sì, può pure esistere il tema perfetto, chi l'ha fatto il tema perfetto? Nessuno e allora noi dobbiamo cercare di capire di quanto il nostro tema si disallinea da un modello ideale di riferimento. Premesso che ovviamente questo è un tema classico, cioè questo è un tema super classico, siamo ritornati all'antichità potremmo dire, no? Ed è un tema che si può fare anche partendo dal testo base. Certo, però bisogna adeguare il testo base alle cose che poi ci siamo detti un po' ad agosto, eccetera, eccetera. Ora, io che devo fare? Devo fare uno svolgimento, così poi dopo chi è disallineato si pianta la pistola alla tempia? Non credo sia il caso stasera, no? Che dite? Eh, io infatti eviterei, io ce l'ho qui, eh, l'ho fatto, c'ho uno svolgimento, ma probabilmente è meglio evitare. Io vorrei soltanto dire due cose, magari poi domani sera ci vediamo. Io me la suono, penso meglio consigliare, no? Allora, qui diciamo che sicuramente nella traccia andava fatto un discorso sulla, sul valore del 2744, quindi sicuramente avrete fatto la razio, no? È una norma che tutela il debitore, che tutela la par condicio creditorum, che tutela l'autotutè, il principio del divieto dell'autotutela privata, si è detto tutto il contrario di tutto. C'è da dire che oggi la giurisprudenza tende a considerare come valore quello relativo alla tutela del debitore, perché nel momento in cui ammette il marciano, significa ti do l'eccedenza di valore, la giurisprudenza chiaramente sta sterzando verso questo tipo di valore qui, no? Quello classico, quello dalla tutela della persona di vita debole. Ora, detto questo, andava sicuramente però, fatto questo tipo di ragionamento. Io ieri che vi ho detto? Leggete la traccia, leggete la norma. Ora, la traccia, la, la norma, 2744, vi dice il divieto del patto commissorio. Abbiamo dato una definizione di patto commissorio. Cos'è il patto commissorio? Il patto col quale si conviene che in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data impegno, poi sappiamo che c'è la norma sull'anticresi, passi al creditore. Caso di radiempimento, la proprietà passa al creditore. Quindi la norma per come è congegnata vieta che cosa? Il trasferimento differito all'inatempimento del creditore. Questo è un po' il discorso. E soprattutto prevede un modello tipico. Qual è il modello tipico? Garanzia, quindi ci vuole una garanzia. Ora, se c'è una garanzia vuol dire che c'è un credito, quindi un rapporto obbligatorio e poi un patto commissorio. Ci vogliono tre cose nel modello legale, cioè un patto, una garanzia e un finanziamento, quindi un credito, un rapporto di debito-credito. Ora, e quindi parte la nullità testuale del 2744. Però abbiamo detto, credo, 200 volte tra luglio e settembre, che il 2744 sia nell'interpretazione giurisprudenziale una norma di risultato, perché tende a vietare un risultato. Qual è il risultato? Quello che di fatto il debitore perda la proprietà relativamente ad un bene proprio dato in garanzia e determini questo trasferimento ovviamente un danno sostanzialmente, perché il valore della res data impegno sopravanza il valore del credito. Perché la norma non precisa restituisci l'eccedenza, no? Questo è il discorso. Cioè la norma non dice restituisci l'eccedenza. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto parlando poi delle figure legali di Marciano, quindi prestito vitalizio ipotecario, credito al consul, scusate, pegno non possessorio, trasferimento immobiliare. Quindi il legislatore cosa fa? Recepisce quella che è l'interpretazione giurisprudenziale. Ove il patto sia congegnato come patto Marciano, allora lì non viola il divieto del patto commissorio. Non stiamo quindi nella tecnica elusiva della norma, perché semplicemente non c'è una violazione diretta della norma. Però la traccia ci diceva, parli il candidato delle tecniche elusive. Quindi in sostanza, spero che magari ci poteva star bene parlare del Marciano, tant'è che tutti i commentari, tutte le trattazioni sul patto commissorio partono con il discorso del Marciano. Però nello svolgimento non poteva, direi, cioè è una mancanza importante non aver fatto, non dico l'evoluzione storica del mille, dell'evoluzione storica degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, no? Ma semplicemente dire il patto secondo la giurisprudenza viola il 2744 anche un'alienazione di garanzia, quindi un trasferimento che ha una funzione di garanzia, dove la causa vendendi viene inquinata dalla causa di garanzia che sia immediatamente traslativa. Perché pure se è immediatamente traslativa, è sottoposta ad una condizione risolutiva dell'adempimento in questo caso, anche questa viola il diritto del patto commissorio. Ora, secondo me la traccia più che ruotare attorno allo snocciolare le varie figure di cui si è interessata la giurisprudenza, cioè procura a vendere, cessione del credito, contratto di riporto, vendita con riserve della proprietà, cioè le figure di cui poi dottrina e giurisprudenza si sono occupate, la traccia stava proprio nel collegamento negoziale nella causa in concreto e nella frode alla legge. Perché la traccia ci dice tratti il candidato del divieto, benissimo, e delle, quindi c'è una congiunzione, e delle forme assunte nella prassi negoziale volte all'illusione dello stesso. Quali sono le forme? Non le figure, le forme. Allora, per forma, secondo me, la commissione ha voluto stressare, poi ovviamente è una questione di interpretazione, va bene pure indicare le figure, ma soprattutto il tema era quello del collegamento negoziale tra contratti tipici o tra figure atipiche, come accade nel send and lease back. Cioè il fatto che le parti sostanzialmente utilizzano dei contratti tipici, li combinano per seguire una causa in concreto che coincide con il risultato vietato. Ecco, questo è semplicemente quello che bisognava evidenziare, cioè collegamento negoziale, causa in concreto e un pizzichino ovviamente direi una buona parte di frode alla legge. Ecco perché vi ho fatta la lezione nullità parte seconda, frode alla legge. Ora qua mi direte, consiglieri non ho fatto però tutte le teorie sulla frode alla legge, la tesi soggettiva, la tesi oggettiva, la tesi procedimentale, il collegamento. Ecco, però attenzione, basta, spero che abbiate utilizzato la parola collegamento negoziale da qualche parte, perché di fatto con il termine forma, cioè le forme assunte nella prassi negoziale volte all'elusione, sì, forme magari è un sinonimo di figure, chi lo sa, quindi va bene anche il tema che indichi, certamente va bene, chi ha parlato della vendita con patto di riscatto, con patto di retrovendita, il mandato a vendere, il patto commissorio ad effetti obbligatori, di queste cose, peraltro voglio diciamo dirlo, ne parla il testo base, ne parla sia Gazzoni, ne parla Amadio, tant'è che io quando ho fatto la frode alla legge tenevo davanti a me Amadio che vi commento in sostanza. Ora, qualcuno ha messo la donazione, liberalità indirette, diciamo soffigure di cui se aprite i commentati, i trattati, non si parla proprio tantissimo, si parla più per dire di un credito, di una cessione del credito a fine di garanzia, dove sapete che c'è il conflitto, la giustizia di tiene a ritenuto che non vi sia, se parla di diciamo di impegno irregolare, lì ci sta il 2803, il 2804 che avrete sicuramente trovato, cioè un po' le figure problematiche sono queste, qualcuno per favore può silenziare il cellulare, questo è il suono del mio cellulare, ora di qualcuno che qui non è presente che chiede una conversazione individuale dopo quella collettiva. Il 2744 è una norma imperativa, ecco perché è una norma imperativa, la nullità è sì testuale per lo schema previsto, però poi sappiamo che le sezioni unite sono intervenute, hanno detto che è una norma che non è eccezionale, esprime un principio generale e quindi copre un po' tutto, cioè copre un po' tutto quello che va nella causa in concreto, nella funzione economico individuale a perseguire proprio il risultato vietato, ecco questo era un po' il tema da fare. Poi certo al commissario sicuramente piacerà il tema sul leasing back, ecco perché io ho insistito tanto sul lease back dicendovi prima la giurisprudenza lo considerava sempre nullo, 2744, poi invece più recentemente va a identificare se il lease back persegue una funzione prevalente di garanzia, perché? Perché lì c'è, se c'è una sproporzione, se c'è un approfittamento e vedete che sono tutti quegli indici dai quali poi emerge la frode alla legge, sia ci riesce a ricavare la frode alla legge, che è un mixum di elementi oggettivi e soggettivi. Ecco gli indici sintomatici. Diciamo che non era un tema difficile, però detto ciò, cioè questo un po' era quello che si doveva scrivere in questa traccia. Io però veramente insomma, sebbene sia una chiacchierata, sto fornendo delle suggestioni anche di livello approfondito e anche avanzato. Allora qualcuno mi dirà, ma io tutte queste cose non le ho scritte nemmeno pensate lontanamente. ma mica solo voi, diciamo la gran parte. Ora al concorso in magistratura, l'abbiamo detto ieri, bisogna studiare tanto, bisogna studiare argomenti infiniti e magari saperli tutti. Tutti conoscono, hanno scritto bene di questo argomento? Certo, sicuramente c'è chi ha aggiunto la parte in più sul Marciano, che piacerà tantissimo a Donza ovviamente, perché magari se è stato lui che a dare la traccia come immagino, perché io se sono stato infinite volte sul Marciano l'avrete capito, è perché c'era un motivo, vi ho letto il libro, ho fatto i passaggi, voi mi avete ascoltato, io a posti andando a mare, voi a posti andando a mare, ci siamo intrattenuti a legge, le varie figure, i finanziamenti eccetera, veramente l'abbiamo presa da tutte le parti sto coso. Ora alla fine è uscito, benissimo, avete messo il Marciano. Ora intendiamoci, nella lettura della traccia, tracci il candidato del divieto di patto commissorio e delle forme assunte nella prassi negoziale volte all'elusione dello stesso. Ora non vi sta parlando di Marciano, ma in sostanza ve lo chiede implicitamente, perché vi sta dicendo, tu devi parlare delle forme elusive, cioè di quelle che sono funzionali all'elusione del divieto. Tale non è il Marciano, e di questo noi possiamo essere certi, come abbiamo detto, perché? Perché la Cassazione Civile ce l'ha detto e vi ho letto la sentenza, quella famosa del 2015, che iniziò a sdoganare il, diciamo, il leasing back con clausola marciana. Poi ci stanno tutti gli istituti di cui abbiamo parlato, e il fatto che quest'analisi non sia peregrina né esuli dal divieto del patto commissorio, diciamo, emerge da questo discorso, questo un po' per, anche per rasserenarvi, no? Se voi avete il codice commentato, no? Io l'ho fatto per voi stasera, per rasserenarvi, se voi prendete il commentario della VKI, quindi non sono io a parlare, ma è il commentario VKI. Il commentario VKI vi dice, e nel commento dell'articolo 2744 vi fa la razio storica, vi dice le figure di cui si è occupata la giurisprudenza, e alla fine, o a questo punto, leggo, per rasserenarvi ancora di più, dopo aver parlato della causa in concreto, collegamento negoziale, frode alla legge, vi dice, c'è però elusione, non c'è elusione, se c'è marciano, e parte la trattazione relativa al marciano, i contratti di garanzia finanziaria, e so che qualcuno li ha messi, il prestito vitalizio ipotecario, il 48 bis tub, il 125 deces, la sarebbe la norma sul credito al consumo, quindi come vedete, non è il docente che parla, ma è il commentario della VKI. Quindi possiamo dire che tutto l'inserimento relativo al marciano, anche in questa traccia, gira in qualche misura bene, chiaramente doveva essere fatto nella prospettiva della traccia, cioè in modo funzionale a dire, guarda che l'elusione non c'è, non c'è la violazione della norma imperativa, non diretta perché ci sarebbe 1418, ma indiretta, cioè la causa si repute illecita 1344, se le parti congegnano il contratto con la clausola marciana. Quindi anche questo, che forse è un dubbio che qualcuno poteva avere, anche questo ovviamente, sicuramente ci stava nella traccia. A mio avviso, poi chiaramente, chi comanda qui sarà la commissione che deciderà le vostre sorti. Va bene, ho cercato di non fare una lezione, ma di fare una chiacchierata. Se è possibile, scusate ragazzi, io non ci vedo, aspettate, mi avvicino, perché è troppo piccolo, qua non riesco a... mi prenoto per la conversazione... sì, sì, ora dopo la chiacchierata ci possiamo assolutamente sentire. Io ovviamente a qualcuno ho risposto, a qualcun altro no, è perché stavamo un attimo anche preparando la chiacchierata, ora ci vuole, cioè è vero che uno magari fa un secondo, cioè le cose un attimo le deve pensare prima di dire, no? Benissimo, ci sono domande? Penso che sia meglio passare i colloqui individuali. Ok, perfetto. Allora ragazzi, io vi saluto ora, se avete dubbi, perplessità, scriveteci, mandateci la vostra scaletta, mandateci lo svolgimento. Devo dire la verità, io sono... volevo, diciamo, dire due cose. Questo mi sento di dirlo. Ora, c'è chi ha fatto veramente dei bei temi, io sono contento di alcune persone e ovviamente c'è chi è più all'inizio nello studio e non si può pretendere una mission impossible di conoscenza approfondita di tutti gli argomenti. Quindi sono anche contento di quello che ovviamente hanno fatto i ragazzi al corso base, che magari ci seguono da un annetto. Lo studio per il concorso, diciamo, è lungo, non bisogna entrare nel pallone. Allora, per tutti, io voglio salutarvi dicendo, resettiamo quello che è stato fatto oggi. Domani è un nuovo giorno, ok? Ci sarà una nuova traccia e allora indipendentemente dal mio risultato di oggi, dalla mia performance di oggi, io domani devo dare il massimo. Anche quelli che sono andati bene, mica possono pensare, eh ho vinto il concorso, ci saranno altri due giorni. Oppure quelli che sono andati non bene, non benissimo, non si devono scoraggiare, perché magari domani e dopodomani escono due temi super selettivi, loro vanno bene, il primo tema non ha nessuna rilevanza nella triade, diciamo, dei temi, quindi ogni giorno, il concorso va costruito giorno dopo giorno. Domani è un altro giorno, non avete fatto ancora niente, chi è andato bene, chi è andato un po' meno bene, domani dovete dare il massimo. Però ragazzi io vi prego solo una cosa, ve l'ho detto io, ve lo dico oggi, dovete rispondere alla traccia. La traccia vi formula una richiesta su un istituto. Non potete andare a scrivere quello che più vi piace, quello che vi ricordate o quello che vi ho spiegato io magari ieri, perché magari non va bene per quella traccia, allora voi lo dovete adeguare nella prospettiva della traccia e quindi costruire un tema proporzionato che rispecchi la richiesta della traccia. Va bene? Però devo dire la verità, questa prima traccia sembra che la commissione sia una commissione tranquilla, bisogna preoccuparsi perché a gennaio hanno fatto la stessa cosa. Primo giorno che bello, tutta la tranquillità, secondo giorno una meraviglia, questo concorso in magistratura lo si può sfiorare da solo, il terzo giorno hanno dato una mazzata terrificante. Quindi ricordiamoci che il concorso in magistratura si vince con una prestazione che si fonda su tre giorni. Oggi è andata così, domani è un altro giorno. Ricordatevi che voi non andate a fare il concorso, ma andate a fare un'esercitazione al bonus pastor. È una simulazione. L'anno prossimo noi facciamo una simulazione al mese, se ci sarò io ci sarà macchia, ci saremmo noi tutta la giornata. Macchia è difficile che ci sia tutta la giornata, ma io ci sarò tutta la giornata durante l'esercitazione, che vi devo vedere scrivere sotto i miei occhi. Ci vediamo allora domani e a breve poi con i colloqui individuali, chi ne faccia richiesta, chi ne ha bisogno ovviamente. Va bene? Grazie.